In questo nuovo video oggi vi farò vedere una predizione inventata da me. Inizialmente le predizioni venivano sempre fatte con la conoscenza della prima carta e dell'ultima carta. Allora, adesso noi non contiamo né il 4 di picche e né il joker. Allora, vado a fare così e la carta che capiterà è il 2 di picche. Proviamo a rifarlo. Jack di picche. Allora ragazzi, questo punto è veramente molto bello e vi darò il tutorial solo ai 30 likes. Ci vediamo nel prossimo video. Adesso. Ciao. Ciao. Ciao.